Benvenuti nella Galassia Rattics. Ciao a tutti. Oggi vi presento una moto leggendaria. B-M-V-R 1200GS. Questa moto è immatricolata ad aprile 2016, ha 32.000 km certificati ed è in ottime condizioni. È dotata di un motore bicilindrico da 1170cc, perfetta per chi cerca avventura e affidabilità su ogni tipo di terreno. Se state cercando una moto usata ma in condizioni impeccabili, la B-M-V-R 1200GS è la scelta ideale per voi. Per maggiori dettagli e per scoprire altre offerte incredibili, visitate il sito motorattics.it. Non dimenticate di iscrivervi per rimanere aggiornati con le ultime novità.